bentornato gutier bentornata il menu che si genera dal pulsante start di windows 8.1 update è giunto quasi al termine ora parliamo di opzioni spegnimento nella lezione 118 e il rispettivo video tutorial ho trattato l'equivalente sezione ma per windows 7 che in realtà era etichettata con un altro nome opzioni risparmio energia ma di fatto è la stessa cosa a cosa serve ti permette di amministrare le impostazioni hardware e del sistema operativo per gestire in maniera personalizzata l'utilizzo dell'energia da parte del computer il consumo in pratica il consumo è relazionato alle prestazioni ed è particolarmente importante se impieghi un'alimentazione a batteria come nel caso dei notebook come si avvia naturalmente con il pulsante destro del mouse clicca sul pulsante start ed individua l'opzione relativa opzioni spegnimento una volta che si è entrato che si è entrata nella sezione hai la possibilità con un semplice click di impostare il parametro per la gestione dei consumi questa sezione ti permette di scegliere varie combinazioni d'uso da hardware e software per una risposta migliore dal punto di vista ecologico ed economica oppure più performante ma naturalmente un po più dispendiosa in termini di risorse e quindi economiche ma soprattutto anche inquinante potrai scegliere tre diversi approcci bilanciato prestazione elevata oppure risparmio energia qui uno screenshot che rappresenta queste tre opzioni possibili la prima preferenza ti consente di bilanciare i consumi e le prestazioni sull'hardware compatibile naturalmente a tali impostazioni mentre la seconda consente di ottenere le massime prestazioni per una specifica macchina ma a scapito di un maggior consumo di corrente la terza opzione potrebbe essere nascosta se non la evidenzi subito potrai cliccare sul pulsante mostra combinazioni aggiuntive e naturalmente si presenterà essa dà il massimo del risparmio energetico degradando le prestazioni laddove è possibile accanto ad ogni scelta trovi un altro pulsante con la scritta modifica impostazioni combinazioni accedendo a questa opzione a secondo della scelta naturalmente avrai altre due possibili scelte una relativa alla disattivazione dello schermo e l'altra relativa alla sospensione del computer qui uno screenshot con i relativi menu a tendina che si generano nella nuova finestra potrai scegliere dopo quanti minuti di inattività si spegnerà automaticamente lo schermo oppure se il computer possa entrare in sospensione potrai decidere di non spegnerlo ormai oppure scegliere un tempo che va da un minuto a diverse ore il pulsante ripristina impostazioni predefinite per questa combinazione ti riporta i valori nominali quanto però deciso dalla microsoft il pulsante cambia impostazioni avanzate ti consente di accedere ad una nuova sezione con le impostazioni attualmente avanzate per la gestione del risparmio energetico per la modalità che avrai scelto qui puoi sbizzarrirti in quanto potrai visionare ed interagire con un'ampia lista di impostazioni rendendo particolarmente personalizzate le opzioni per il risparmio energetico o per rendere più performante il sistema operativo scegli una delle tre combinazioni di cui sopra fatto ciò puoi selezionare dalla lista della nuova finestra una ad una delle opzioni per impostare il valore che ritiene più opportuno per l'utilizzo che ne farai del sistema operativo e del tuo computer quindi questa è una lista delle impostazioni che potrai eseguire e che verosimilmente troverai nella sezione a seconda della opzione bilanciato prestazioni elevate e risparmio energetico otterrai la possibilità di impostare dei parametri relativi al disco rigido ad internet explorer impostazioni sfondo del desktop impostazione della scheda wireless modalità sospensioni impostazioni usb pulsante di alimentazione il coperchio laddove avesse un pulsante di allerta o di gestione dell'apertura del pannello laterale del computer pc express risparmio energetico del processore impostazioni per lo schermo ed impostazioni multimediali qui uno screenshot appunto che in relazione al tipo di opzione di risparmio energetico se prestazioni elevate bilanciato o risparmio energia hai una lista di opzioni che puoi scegliere ed impostare puoi raffinare come vedrai nel dettaglio le tue impostazioni sui consumi la mia scelta è sempre per un sistema operativo più performante ma è la mia scelta rispetto ad uno esteticamente più attraente quindi meglio brutto più performante che non bello e un po lento insomma in questo specifico caso la mia scelta naturalmente tutto ciò che può introdurre un minimo ritardo come dei conteggi elaborazioni attese e cose del genere io personalmente lo disattivo sarà quindi in definitiva tua cura impostare i parametri in base alle tue necessità infine troverai il pulsante ripristina combinazione predefinita ciò reimposte i valori dei parametri in base ai valori definiti dalla microsoft per la tipologia di combinazioni che avrai scelto tra le tre disponibili bene good andiamo a vedere la pratica pulsante start con il tasto destro del mouse opzioni spegnimento in un attimo avrai presentata la possibile scelta per quel che riguarda le combinazioni del consumo di energia qui c'è un link che ti rimanda alla guida linea che può fornirti informazioni utili a riguardo qui potrai decidere di scegliere se utilizzare il sistema operativo del computer con una condizione di consumo bilanciato e ti da anche la scelta consigliata oppure scegliere le prestazioni elevate come nel caso in cui gestisco io il mio computer oppure scegliere un totale risparmio energetico dopo aver scelto questa opzione tu potrai ulteriormente implementare la tipologia di scelta quindi andare un po nel dettaglio cliccando sul pulsante modifica impostazioni combinazioni si apre questa schermata nella quale da due menu a tendina potrai decidere dopo quanto tempo e se disattivare lo schermo o fare entrare il computer in modalità sospensione impostando un parametro che varia da un minuto a cinque ore oppure come in questo caso trovi scritto mai potrai ripristinare comunque i valori cliccando su questo pulsante oppure andare ancor più nel dettaglio cliccando sul pulsante cambio impostazioni avanzate risparmio energia da qui una lista di impostazioni ti permetterà di scegliere in maniera granulare in base alle modalità che avrai scelto tutte le possibili impostazioni potrai scegliere se richiedere una password alla riattivazione del computer per il disco rigido potrai decidere se impostare la sua disattivazione per un valore numerico che varia da qualche minuto a qualche ora oppure decidere di impostare mai la sospensione per quel che riguarda internet explorer hai la possibilità di impostare un timer per i java street e scegliere se attivarlo per risparmio energetico oppure per le prestazioni massime andiamo giù per quel che riguarda le impostazioni del schermo del desktop potrei decidere di selezionare una impostazione se disponibile o sospesa quindi laddove tu avrai la possibilità di visionare tramite lo sfondo del desktop una presentazione potrai decidere se sospenderla oppure renderla disponibile come vedi posizionandoti sulla singola scelta potrai avere una minima descrizione a schermo di quello che va a eseguire questa opzione impostazione della scheda wireless ti consente di configurare le impostazioni per risparmio energetico di una scheda wireless qualora l'avessi installata puoi decidere se prestazioni massime risparmio energetico minimo medio oppure massimo andiamo sempre per le prestazioni migliori puoi decidere se far entrare o meno il computer in sospensione dopo un certo periodo di tempo come vedi ho impostato un valore mai o può avere anche attivato una sospensione ibrida che ti permette di salvare i dati prima di passare al risparmio energetico e quindi alla disattivazione qui potresti anche decidere di disattivarla oppure mantenere attiva mettere in stato di ibernazione il computer dopo un certo periodo di tempo oppure mai consentire il timer della riattivazione quindi nel caso in cui il computer vada in attivazione puoi abilitare o disabilitare la riattivazione tramite dei programmi già prefissati ossia se hai un evento in programma puoi far sì che questo evento possa riattivare o meno il computer per quel che riguarda le impostazioni della sezione usb vai ad impostare la sospensione selettiva o meno delle periferiche usb quindi delle porte usb io la disattiverei anche se ti ricordo che questo specifico sistema operativo è dedicato per me soltanto alla guida al computer proseguiamo pulsanti di alimentazione coperchio può capitare che magari il tuo computer ha un interruttore di sospensione di disattivazione del sistema radio quindi di spegnimento sui pannelli su uno dei pannelli laterali quindi laddove tu lo vai ad aprire automaticamente procederai allo spegnimento del computer qui nel dettaglio potrai anche impostare cosa deve fare il pulsante di alimentazione qualora tu lo spegnessi se non intervenire oppure sospendere il computer posizionarlo in modalità ibernata oppure arrestare il sistema operativo quindi spegnerlo oppure se è attivo la modalità di sospensione farlo entrare in modalità di sospensione oppure non intervenire o passarlo ad una condizione di stato ibernato andiamo avanti per la PCI express puoi impostare un risparmio energetico o meno se è inserita se è presente puoi anche qui decidere di disattivare il risparmio energetico oppure renderlo moderato o massimo naturalmente lascerei inattivo per quel che riguarda il processore ai tre voci puoi impostare il parametro numerico che ti permette di scegliere se il livello di prestazione del processore deve essere minimo o massimo in percentuali quindi diamo sempre la massima disponibilità la massima energia al processore come anche in questo caso oppure scegliere i criteri di raffreddamento del sistema in questo caso puoi decidere se posizionarla in formato passivo o attivo qui è sempre meglio metterlo in posizione attiva le ultime voci sono relative allo schermo quindi puoi specificare le impostazioni relative allo schermo se disattivarlo dopo un certo periodo di tempo oppure mai e se fosse previsto per il monitor attivare o disattivare una modalità adattiva di luminosità in base alla condizione ambientale quindi se hai dei sensori di luminosità puoi senz'altro decidere se attivare o disattivare questo controllo della luminosità dello schermo in base alla luminosità naturalmente in caso di giorno la luminosità dello schermo dovrà essere più alta che non nelle ore pomeridiane o notturne infine la impostazioni multimediali ti permette di configurare il risparmio energetico o meno quando hai in visione dei contenuti multimediali quindi le impostazioni in questo caso andranno relative a questo computer se altri computer visualizzeranno le informazioni multimediali prelevate da questo computer quindi in caso di rete potrai decidere se impedire al computer di passare allo stato di sospensione in attività o passare allo stato di sospensione oppure di passare alla modalità utente assente quindi una modalità che prevede l'allontanamento dal computer dell'utente in modo che nessuno possa visionare quanto è mostrato ultima voce di questa sezione la modalità di riproduzione dei video qui hai la possibilità di ottimizzare la qualità di video tenerlo bilanciato oppure fornire un valore ragionevole per il risparmio energetico in questo caso io ottimizzerei la qualità video questo abbiamo detto durante la riproduzione di un video a schermo in basso trovi il pulsante di ripristino delle combinazioni predefinite quindi qualora tu avessi variato o ne ricordassi come reimpostarle sarà sufficiente cliccare sul pulsante ripristina combinazioni predefinite dopo aver scelto tutti i parametri con il pulsante ok andrai ad acquisire tutti i parametri che avrai impostato annulliamo e torniamo alla schermata precedente anche qui puoi vedere ci sono dei pulsanti che ti permettono di interagire con questa sezione alcuni ti riportano alle impostazioni precedentemente visionate altri riportano ad una pagina che ti permette di gestire ancora altre impostazioni come in questo caso specifico quando viene premuto il pulsante di alimentazione potrai decidere se farlo non intervenire il computer oppure sospenderlo passarlo in modalità hibernata oppure come normalmente accade arrestare il sistema operativo oppure quando viene muto il pulsante di sospensione passare in una di queste tre opzioni oppure addirittura non intervenire potrai decidere se richiedere una password di attivazione laddove fosse previsto potrai anche impostare o modificare una password per l'account utente qualora non l'avessi già fatto in precedenza qui hai altre possibili opzioni che possono non essere attive in base alla scelta della gestione dell'energia eseguita sceglie di attivare l'avvio rapido oppure no mostrare la scritta sospensione ibernazione nel menu di spegnimento mostrare il pulsante di blocco o meno dell'immagine dell'account quindi nella sezione gestione l'account il pulsante ulteriori informazioni ti permette di ottenere dalla guida linea informazioni relative a quanto detto finora e alla modalità di avvio rapido sarà cura tua magari se vorrai andare a visionare tutte queste possibili informazioni al termine dopo che avrai eseguito la scelta clicca sul pulsante salva cambiamenti per acquisire queste nuove impostazioni termino questa lunga trattazione del menu che si genera dal pulsante start dicendo che esiste un'ultima possibilità da questo menu start che è programmi e funzionalità in pratica tale sezione si comporta come l'equivalente che ho trattato nella lezione 121 e rispettivo video tutorial che però è collegata a windows 7 qui una rappresentazione in dettaglio delle possibili attivazioni disattivazioni delle funzionalità per windows puoi rivolgerti a tale lezione per acquisire le informazioni necessarie se già non rientrano nel tuo parco competenze questo perché dalla prossima lezione eseguiremo un nuovo salto quantico inizierò a parlarti dell'ultimo nato in casa microsoft windows 10 ora come sempre un forte saluto ciao a presto da calo e dalla prossima ciao a presto